Buongiorno a tutti e ben ritrovati al consueto appuntamento per le previsioni del weekend. Vediamo la situazione in dettaglio giorno per giorno. Sabato sarà una giornata dominata dalle correnti settentrionali associata ad una rimonta della pressione a causa dell'allontanamento verso est della perturbazione che ha causato l'instabilità dei giorni scorsi. Il colpo di coda del minimo ormai sui Balcani continua comunque a convogliare flussi di aria de nord che determineranno qualche rinforzo nelle vallate alpine nord-occidentali per venti di caduta. In generale sulla nostra regione sabato il cielo si presenterà parzialmente nuvoloso con il passaggio di nubi medio-alte nel corso della giornata. Sono previsti addensamenti più consistenti sui rilievi di confine nord-occidentali tra Alpi le pontine e Alpi graie con precipitazioni deboli o localmente moderate e nevicate al di sopra dei 2200 metri. Lo zero termico è previsto in aumento fino a 3000 metri in serata con valori inferiori sulle cresse di confine. Le temperature sono previste in marcato aumento sia nei valori massimi che in quelli minimi. Come si vede dalla mappa i venti soffieranno moderati settentrionali in montagna su tutti i settori con rinforzi nelle vallate alpine settentrionali. Per domenica la pressione in quota ci mostra ancora flussi settentrionali sulla nostra regione e la rimonta dell'alta pressione che porterà finalmente ad un rialzo delle temperature e tempo bello e soleggiato. In generale quindi per domenica il cielo si presenterà sereno sulla nostra regione ad eccezione di addensamenti sui rilievi di confine nord-occidentale. Nelle ore centrali della giornata sarà possibile la formazione di nubi cumuliformi sulle zone montane e pedemontane alpine con nuvolosità più consistente sulle alpi marittime dove saranno possibili deboli piovaschi. Lo zero termico è previsto in calo fino ai 2.900 metri. Le temperature sono previste in aumento sia nei valori massimi che in quelli minimi. I venti si prevedono deboli settentrionali con rinforzi nelle vallate a nord della regione. Infine raccomandiamo sempre di consultare prima della partenza per le vostre escursioni sci alpinistiche il bollettino vala anche sul sito di Arpa Piemonte nella sezione bollettini. Da Arpa Piemonte è tutto, un saluto e buon weekend!